Omelia di Monsignor Marco Agostini, cerimoniere pontificio, nella ricorrenza della solenità dell'ascensione, pronunciata lo scorso giovedì 21 maggio 2020, pubblicata nella pagina Facebook Cetus Fidelium San Remigio Vescovo, Verona. Si è lodato Gesù Cristo. Un gesto semplice e potentemente evocativo si è appena compiuto. L'accolito, pronunciate le ultime parole del Vangelo dell'ascensione, ha spento il cero che dalla veglia pasquale ha simboleggiato il Cristo risorto lungo tutti i 40 giorni nei quali il Signore è apparso agli Apostoli e ha parlato delle cose del Regno di Dio. Confronta gli Atti, capitolo primo, versetto 3. Il Signore è salito al cielo e il simbolo della sua presenza fisica sulla terra si è spento. Questa grande torcia, tutta di un pezzo, a forma di colonna, fu preparata e benedetta nella notte pasquale. Prima della sua accensione, questa torcia simboleggiava la colonna di nube che guidava, di giorno in giorno, il popolo degli ebrei in uscita dall'Egitto e insieme il Cristo deposto nella tomba, morto e sepolto. Accesa, essa divenne immagine della colonna di fuoco che, di notte, rischiarava la peregrinazione del popolo eletto e il Cristo fulgente negli splendori della Resurrezione. Portata in processione dal diacono, fu posta su un alto candeliere e incensata. Negli elogi che, nell'Exultet, il diacono ha cantato a questo cero, sono vibrate tutte le speranze della Pasqua, la fede nella Resurrezione dell'uomo Dio, la supplica per la vita della Chiesa e il bene delle anime. Ti preghiamo, dunque, o Signore, di concedere tempi tranquilli in queste gioie pasquali, di reggere e governare e conservare con protezione continua noi i tuoi servi, tutto il clero, il devotissimo popolo, insieme al Beatissimo Papa e al nostro Vescovo. Volgi ancora lo sguardo a coloro che ci reggono con il potere e per il dono della tua ineffabile pietà e misericordia dirigi i loro pensieri alla giustizia e alla pace, affinché, dopo la terrena fatica, raggiungano la Patria Celeste assieme con tutto il popolo. Ora questa magnifica torcia è stata spenta. L'espressivo rito ha annunciato l'inizio della vedovanza della Chiesa, avvertendoci che, d'ora in avanti, per contemplare il nostro Salvatore dovremo imparare sempre più a guardare al cielo, là dove Egli risiede. Carissimi, quest'anno, solo per un brevissimo tratto di tempo, ci siamo rallegrati della luce del cielo pasquale. La quarantena imposta da una pestilenza che non ci ha concesso tempi tranquilli in queste gioie pasquali, anzi, ci ha fatto provare in anticipo lo stato di vedovanza. Siamo stati tenuti per tutta la quaresima e la quarantena pasquale separati dalle gioie pasquali, ossia dai sacramenti e dalle chiese. Abbiamo provato i languori e lo sfinimento dell'esilio. In questa valle di lacrime, tuttavia, non abbiamo perso la speranza. Abbiamo perseverato nel desiderio del volto di Dio. Il mistero dell'ascensione fa percepire in modo mistico a tutta la Chiesa la mancanza della vista di Gesù. Ma in questo tempo dobbiamo particolarmente considerare, come cristiani, la mancanza sacramentale del Signore sia mancata fin troppo, a tal punto che tanti dei nostri sono morti senza il conforto della fede e dei sacramenti. Per noi è buono tutto ciò che ci ravvicina Gesù, mentre quello che ce ne allontana e ce ne tiene distanti è cattivo e funesto. Il mistero dell'ascensione è l'ultimo bagliore che Dio fa splendere ai nostri sguardi per mostrarci la via. Se il nostro cuore aspira a ritrovare Gesù, significa che esso vive della vera vita. Ma se si preoccupa solo delle cose create, se gli importa solo di restare vivo in questo mondo, non sentendo più l'attrattiva dello Sposo Celeste, vuol dire che esso è morto. Talvolta siamo indotti a pensare che, pure una parte di coloro che hanno la responsabilità, non senta più l'attrattiva dello Sposo Celeste. Ora, il buon pastore è asceso alla destra del Padre e permetterà allo Spirito Santo di scendere sulla Chiesa e sul mondo per convincerli in fatto di peccato, di giustizia e di giudizio. Confronta il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 8 Alziamo dunque gli occhi come i discepoli e seguiamo, con desiderio, colui che oggi risale al cielo per prepararci un posto. La liturgia, nel prefazio, metterà sulle labbra del sacerdote un grido di speranza, su su un corda, in alto i cuori. Un grido che interpreta quello di tanti nostri fratelli, le anime sante liberate dal limbo già da 40 giorni e che attendono il felice momento in cui la via del cielo, chiusa per il peccato, si aprirà improvvisamente ad essi. Potranno percorrerla al seguito del Divin Trionfatore, dei Santi Angeli che sono accorsi incontro al Redentore e che ci invitano a far parte delle loro file. Carissimi, alla Trinità Santissima non è sfuggita la sofferenza del popolo cristiano nel tempo di questa desolazione, dell'abbandono e delle privazioni, le azioni che l'hanno sostenuto e confortato e quelle che l'hanno fatto sanguinare. Innanzi al Cristo glorioso sta il bene e il male di ciascuno, il coraggio e la vigliaccheria, l'eroismo e l'abbandono, le azioni e le omissioni. Egli, giudice misericordioso e giusto, darà unicunque sum a ciascuno il suo, secondo l'antica asserzione del diritto romano che campeggia come monito sulla pagina, ad esempio, dell'osservatore romano. Prima di salire al cielo, il Signore dà un comando che spetta a Lui solo. Andate il tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Comanda, cioè, la missione. Per accreditare l'annuncio del Vangelo, il Signore aggiunge che «Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà danno alcuno. Imporranno le mani i malati e questi guariranno». Il Signore vuole che il miracolo non sia considerato un genere letterario, ma sia a fondamento della sua Chiesa, come fu a fondamento della sua missione divina. La sospensione della legge della natura avrebbe dichiarato agli uomini che coloro che stavano annunciando la legge divina lo facevano con l'autorità dello stesso divino autore di questa natura. Questo rimane come monito per tutte le generazioni di missionari e di pastore. Vediamo, come ai nostri giorni, come il pastore o il missionario che mostra di pensare in modo mondano, che tentenna nel credere a Dio, mettendo tra parentesi l'obbedienza a Dio e alla sua legge che viene meno al suo alto incarico di annunciatore intrepito delle verità tutta intera e salvifica, finisca spesso per obbedire a leggi puramente umane. fa niente che siano anche le più meschine. Vediamo oggi che Gesù Cristo non è veramente amato e adorato. Vediamo che gli uomini, talvolta anche quelli di Chiesa, non si ricordano senza tregua che egli è il Signore onnipotente. Gesù Cristo lo si vorrebbe infine relegato nell'intimo della vita privata. Ai nostri giorni, cioè, è l'uomo che regna e vediamo come spesso questo avvenga a rischio e pericolo dell'umanità. Celebriamo con gioia la festa dell'ascensione, sapendo che il Signore ci ha lasciati, non per abbandonarci, ma è andato a prepararci un posto. La prima prova è che per non lasciarsi soli, tra qualche giorno, sarà inviato il Paraclito, che ci guiderà alla verità tutta intera. Sia lodato Gesù Cristo.